buongiorno milano buon lunedì torna la settimana della moda milano moda uomo stavolta e siamo in via bergognone fuori dalla sfilata di emporia armani e anche oggi andiamo a vedere gli ospiti e i vip che riusciremo a fotografare chikoro sondate no mo chikoro sondate no mo chikoro sondate no mo chikoro sondate chikoro sondate chikoro sondate no mo chikoro sondate bene è finita anche la sfilata di emporia armani qui in via bergognone ora ci spostiamo ci spostiamo alla triennale perché ci sarà gucci che sfila alle due ciao alla prossima chikoro sondate chikoro sondate no mo chikoro sondate